ciao a tutti e benvenuti sul canale di 3d skill up il luogo ideale per acquisire nuove competenze nella modellazione 3d oggi daremo il via un mini corso dedicato alla modellazione 3d di un oggetto molto comune ma non per questo meno interessante una mailbox attraverso questo progetto potrete imparare le varie fasi della creazione di un game prop dallo sviluppo della ipoli alla realizzazione della versione low poly fino all'applicazione delle texture e all'importazione in un motore di gioco come unity inizieremo con la modellazione ipoli della nostra mailbox per questo utilizzeremo blender un potente software open source per la modellazione 3d blender è amato da professionisti e appassionati per la sua flessibilità e per la vasta gamma di strumenti che offre ci permette di creare modelli di alta qualità e dettagliati che sono perfetti per la nostra fase di modellazione ipoli l'obiettivo di questo primo video è di guidarvi passo passo nel processo di creazione del nostro modello ipoli mostrando i metodi e le tecniche più utilizzate in questa fase della produzione che siate principianti o abbiate già qualche esperienza sono sicuro che troverete qualcosa di nuovo da imparare prima di iniziare a modellare spendiamo qualche minuto per esplorare alcuni concetti fondamentali quando parliamo di modellazione 3d ci riferiamo spesso a due termini high poly e low poly high poly come suggerisce il nome si riferisce a modelli con un alto numero di poligoni questi modelli sono estremamente dettagliati e possono includere ad esempio scanalature rientranze rilievi e molto altro sono ideali per creare rendering di alta qualità ma a causa della loro complessità non sono solitamente utilizzati direttamente nei videogiochi d'altro canto i modelli low poly hanno un numero di poligoni molto inferiore mantengono l'essenza del modello ma con meno dettagli questi modelli sono più efficienti dal punto di vista computazionale e vengono spesso utilizzati in ambienti di gioco in tempo reale in questo contesto è importante parlare anche del processo di baking durante il baking le informazioni di dettaglio delle poli vengono cotte su una texture chiamata normal map che può essere poi applicata al modello low poly questo ci permette di avere un modello low poly che appare altamente dettagliato ottimizzato per l'uso in tempo reale ora passiamo al nostro progetto un passo molto importante prima di iniziare la modellazione e la ricerca di reference la raccolta di immagini di riferimento è fondamentale per comprendere la struttura i dettagli e le proporzioni dell'oggetto che stiamo per modellare questo vale non solo per la fase di modellazione ma anche per il texturing le reference ci aiutano a ottenere un risultato finale più realistico e credibile ricordate quando scegliete il design del vostro game prop considerate sempre l'ambiente in cui sarà collocato dovrebbe integrarsi armoniosamente nel mondo del gioco sia in termini di stile che di funzionalità che di storia con le nostre reference pronte e un chiaro obiettivo in mente possiamo ora passare alla fase di modellazione aprite blender e preparatevi a dare vita alla vostra mailbox possiamo utilizzare pure ref per raccogliere le nostre immagini di riferimento e scegliere quella che più ci piace ho trovato queste immagini facendo una ricerca su google e su pinterest e voglio modellare questo questo porta lettere in particolare voi ovviamente potete scegliere quello che preferite iniziamo con la modellazione del supporto questa parte qui e la prima cosa da chiederci è a quale primitiva più si avvicina sicuramente possiamo pensare a un cubo a cui poi daremo una smussatura qui su questi spicoli inseriamo un cubo premiamo shift più up mesh cubo e lo scaliamo apriamo la toolbar di destra alla scheda item in dimensioni impostiamo l'altezza del supporto a circa 110 cm spostiamolo con g più z oppure premendo questa maniglia dell'asse z qui e ora scaliamolo contemporaneamente sull'asse x e y tranne che su z per fare questo possiamo semplicemente premere s shift z z rappresenta l'asse da escludere da questo tipo di trasformazione di scala appunto quindi possiamo scalarlo in questo modo ora per avere già una buon riferimento delle proporzioni di questo supporto possiamo iniziare inserire la cassetta il mailbox con le dimensioni corrette quindi anche qui la primitiva che più si avvicina a questa forma è un cubo a cui daremo una smussatura sopra premiamo shift più a mesh cubo lo scaliamo un po lo spostiamo qui poi in un secondo momento lo agganceremo precisamente al supporto intanto impostiamo le dimensioni corrette sempre nella toolbar di destra in dimensioni impostiamo l'altezza sull'asse z in questo caso possiamo scegliere circa 25 cm per l'altezza e queste dimensioni le possiamo recuperare facendo un minimo di ricerca e solitamente per cassette per portalettere mailbox di questo tipo le dimensioni sono circa queste quindi in altezza 25 cm la larghezza la possiamo impostare a forse 15 16 cm circa mentre la lunghezza sull'asse x rappresentata sull'asse x la possiamo impostare a circa 45 cm possiamo spostare il portalettere qui e vedete che grazie a questo blocking out possiamo già avere una percezione della proporzione del supporto è quello che possiamo notare che probabilmente dobbiamo scalarlo ancora un po questa volta però per farlo un po più grande quindi entriamo in edit mode scaliamolo sempre su x y contemporaneamente escludiamo z quindi s shift z e lo scaliamo in questo modo per inspessirlo un po ok ora entriamo in edit mode per creare questo tipo di smusso sul supporto una volta entrati in edit mode assicuriamoci di attivare la selezione degli spicoli qui quindi selezioniamo questi quattro spicoli qui e premiamo ctrl più b però prima di fare questo scusate in object mode assicuriamoci sempre di applicare la scala e la rotazione per fare in modo che il beaver funzioni correttamente anche altri modificatori che potremmo probabilmente usare insieme quindi per applicare la rotazione e la scala in object mode selezioniamo l'oggetto ctrl più a rotation e scale apply rotation e scale fatto questo quindi possiamo rientrare in edit modo con i nostri quattro spicoli selezionati e premere ctrl più b per applicare il beaver con la rotellina del mouse possiamo scegliere il numero di segmenti ok e a questo punto possiamo rientrare in object mode e applicare shade smooth tasto destro shade auto smooth a questo punto possiamo selezionare il portalettere ctrl a anche qui applichiamo la rotazione e la scala successivamente entriamo in edit mode selezioniamo questi due spicoli ctrl b e applichiamo il beaver qui per dare questa forma per ricreare questa forma quando applichiamo il beaver con ctrl b possiamo attivare l'opzione di clamp overlap che eviterà il sovrapporsi degli spicoli quindi premendo c vedete questo verrà praticamente evitato possiamo confermare il beaver premendo il tasso sinistro del mouse e a questo punto l'unica cosa che ci resta da fare qui è dissolvere questi vertici ovviamente che si sono avvicinati molto e quindi sovrapposti possiamo fare questo semplicemente premendo a selezionare tutti quanti i vertici tasso destro merge vertices by distance quindi entriamo di nuovo in object mode tasto destro sulla cassetta degli attrezzi shade auto smooth ok mi sembra forse un po alta un po troppo alta sì possiamo quindi selezionarla in edit mode shift z per passare rapidamente alla wireframe alla vista wireframe e con b una volta in edit mode possiamo selezionare tutti questi vertici qui e spostarli un po su z in questo modo ok entriamo in object mode shift z di nuovo per passare rapidamente dalla vista solid wireframe vedete shift z ok a questo punto possiamo creare la base risoluzione del supporto shift shift incuboiddetto spostare di nuovo�� sharperンド izzare il supporto shift pivot shift a mesh inseriamo di nuovo un cubo tendo praticamente questa base qui quella che tiene proprio qua la cassetta possiamo scalare su z scalare su tapes siamo qui e scalarla su y per dargli questo tipo di larghezza qui possiamo entrare in edit mode selezionare questa faccia speriamo sempre di attivare la selezione faccia e spostarla un poco sopra così ok ora per assicurarci che la cassetta sia perfettamente agganciata a questa base possiamo attivare lo snapping qui ai vertici quindi selezioniamo questa modalità di snapping e spostiamo la cassetta con g z premiamo control e vedete questo cerchio giallo ci indica che la cassetta si è agganciata perfettamente a uno dei vertici precisamente a questo vertice questo più vicino di questa base quindi adesso siamo sicuri che è perfettamente allineata con la base con il supporto praticamente ora concentriamoci sulla creazione del light poly e dello poly del supporto selezioniamo questi due componenti prima questo poi l'altro premendo shift in questo modo possiamo fare una selezione multipla di oggetti e premiamo il tasto slash sul tasterino numerico per isolarli selezioniamo questo componente qui controlla per applicare la rotazione e la scala entriamo in modalità edit mode selezioniamo questi quattro spigoli qui e applichiamo un bevel control b in questo modo ok ora in object mode applichiamo shade auto smooth e selezioniamo tutte e due i componenti e premiamo control più j che sarebbe join per unirli quindi spostiamoci qui nella scheda object data properties e espandiamo normals e selezioniamo un grado in modo che l'effetto di smoothing sia appropriato ora facciamo una copia di questo oggetto premendo shift più di confermiamo con il tasto destro del mouse e subito dopo premiamo m scegliamo new collection e chiamiamola low quindi rinominiamo il componente il supporto come supporto underscore low questa nomenclatura ci sarà utile dopo in fase di baking con marmoset e per rinominare le mesh possiamo farlo sia qui nell'outliner oppure direttamente nella 3d viewport selezionando la mesh che vogliamo rinominare e premendo F2 vedete? possiamo spegnere per il momento questa collection e abbiamo questa mesh invece che rappresenterà il nostro modello high poly spostiamola anche essa su una nuova collection questa volta di nome high premendo m new collection chiamiamo questa cartella high diamo ok e anche qui rinominiamo la mesh con il nome supporto però questa volta underscore high benissimo ora possiamo concentrarci sul light poly e quando creiamo light poly non dobbiamo preoccuparci del numero di poligoni della mesh l'importante è aver fatto la nostra copia del low poly ovviamente iniziamo dal blocking out per poi andare a definire sempre di più la forma la silhouette del low poly e dobbiamo sempre cercare di mantenere una geometria pulita il più semplice possibile sul low poly che poi ci permetterà facilmente di unwrappare ok quindi adesso però possiamo concentrarci sul light poly e per questo light poly utilizzerò il workflow remesh utilizzeremo questo workflow per capire un po' come funziona e comprendere poi quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di un workflow di questo tipo quando magari conviene usarlo o quando o quando no ad esempio per un pezzo così sicuramente è più che sufficiente anche solo il bevel qui su questi bordi e addirittura il supporto non per il supporto non è necessario nient'altro che lo smooth potrebbe già andare bene così tuttavia con il remesh e quindi creando una versione like poli e densa di questo di questo oggetto possiamo andare aggiungere ad esempio con lo sculting tutta una serie di dettagli come possono essere piccole ammaccature piccole come dire zone danneggiate qui e addirittura poi quando utilizzeremo tra poco questo workflow vedremo che questi due componenti che sono stati semplicemente uniti con il join si fonderanno creando una buona illusione di saldatura che poi teoricamente potremmo accentuare anche in fase di sculting e poi sicuramente andremo ad aggiungere tutta una serie di dettagli come ad esempio le viti per questo pezzo e che potranno essere ricreate sulla normal map nella fase poi di baking che andremo a vedere nel video dedicato ok quindi la prima cosa da fare è selezionare il pezzo e applicare il primo modificatore remesh quindi impostiamo attiviamo mettiamo qui la spunta su smoothing shaving e impostiamo un voxel size sufficiente per ricreare la forma la forma dell'oggetto la forma del support in questo caso quindi 0.01 non è ancora non è ancora sufficiente 0.002 ok questo già potrebbe andare meglio se impostare 0.00 0.002 0.001 forse ok già questo può andare bene ecco il problema di questo workflow è sicuramente che la geometria poi diventerà molto molto densa qua possiamo vedere solo per questo pezzo qui siamo arrivati già a 400 mila triangoli senza applicare subdivision surface o altro però possiamo un po ovviare a questo più che altro per non appesantire troppo la macchina o comunque il software applicando poi alla fine nello stack dei modificatori il decimate in modo da alleggerire un po questo modo alleggerire la mesh diciamo quindi una volta fatto questo possiamo applicare il modificatore smooth corrective impostiamo only smooth qui e in smooth type seleziona selezioniamo length weight ok qui sul repeat possiamo dare un valore di 20 per esempio e vedete che qui già sta creando un buon effetto per quanto riguarda il b per la smussatura qui sugli spigoli e come vi dicevo vedete questo è un bel effetto di saldatura su questi due componenti e che poi sicuramente su low poly verrà ricreato con la normal map non sarà super preciso come light poly però darà una buona una buona idea questo poi ovviamente solo un esempio perché essendo anche un pezzo che sta sotto neanche si vedrà nel game props che stiamo preparando però potrebbe essere potrebbe essere utile per altre saldature che ad esempio possono trovarsi sul corpo del della cassetta della lettera poi vedremo quindi questo già sicuramente possiamo evidenziare il vantaggio di utilizzare questo 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 tipo di workflow ora dobbiamo impostare dobbiamo anzi scusate aggiungere anche il subdivision surface per far sì vedere che questa zona risulti meno sfaccettata più liscia più uniforme diciamo prima di fare questo però dobbiamo entrare un attimo in edit mode e andare a selezionare i spigoli possiamo farlo più velocemente andando qui in select e andiamo a selezionare praticamente select sharp edges in questo modo lui selezionare selezionerà tutti questi spigoli qui netti che formano un certo angolo adesso non so di preciso qual è l'angolo di default comunque ci interessa selezionare questi spigoli netti perché dobbiamo dire che qui praticamente il subdivision surface non deve non deve agire praticamente quindi possiamo selezionare ricordiamo di selezionare anche questo qui che adesso vediamo nascosto quindi dopo aver fatto questo possiamo premere contro le e dire age crease oppure premendo lo shortcut shift più e in questo modo e qui nella transform in edit mode possiamo notare che in ages data questo valore di main crease è impostato a uno e questo ci interessa proprio per far sì che il subdivision surface non agisca su questi spigoli su questi spigoli che abbiamo selezionato e segnato praticamente quindi una volta fatto questo possiamo dobbiamo rientrare in object mode e applicare il subdivision surface che dobbiamo spostare dobbiamo spostare in prima come si dice in prima posizione ok quindi fatto questo possiamo aumentare il numero di suddivisioni qui e vedete che ecco abbiamo già una una smussatura più quelle facce che erano che erano così sfaccettate se si sono si sono allisciate diciamo ok uno degli svantaggi di questo workflow sicuramente può essere un po la sua lentezza poi quello che possiamo aggiungere è il bevel per avere un controllo sugli spigoli e questo qui ci permette di avere più o meno un controllo del del bevel impostiamo limit weight scusate limit method a weight ricordiamoci di impostare in edit mode gli spigoli netti oltre al crease che ci serviva per il subdivision surface anzi qui ricordiamoci nel modificatore subdivision di attivare use crisis altrimenti questo non funzionerà quello che abbiamo detto prima cioè che il modificatore non agisce sui su questi spigoli netti e dicevo però per il bevel una volta impostato il limit method a weight dobbiamo anche assicurarci in edit mode su questi spigoli di impostare il min bevel weight a 1 e questo anche è un altro modo che ci permette di gestire di controllare il bevel la quantità di bevel su questo su questi su questi bordi praticamente quindi fatto questo una cosa che sicuramente possiamo fare è applicare un modificatore decimate impostare il ratio a 0.1 e vediamo che i triangoli da 800.000 passano praticamente 84 mila ed è abbastanza gestibile componente così anche se semplice di 80 80 mila triangoli per l'ipoli ovviamente quindi questo pezzo qui adesso possiamo duplicarlo con shift di questa operazione sarà ovviamente un po lenta confermiamo con il tasso destro del mouse e lo muoviamo su una nuova collection che possiamo chiamare backup ok e qui abbiamo il nostro supporto con i modificatori attivi ancora nello stack quindi non distruttivo e possiamo spegnere un attimo questa collection ritornare sulla poli perché adesso qui è interessante su questo pezzo agire un po con lo sculti in fare cose molto semplici qualche ammaccatura o anche rendere non perfettamente dritto questo componente qua anche il supporto la base e il trucchetto anche per creare quella sorta di realismo in qualsiasi oggetto e non 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 fare in modo che sia perfetto praticamente quindi c'è bisogno di qualche imperfezione ad esempio qualche leggera simmetria o cose di questo tipo che vedremo come fare a breve con con lo sculpting quindi qui abbiamo lo stack dei modificatori abbiamo fatto la copia per non perderli perché ora dobbiamo praticamente applicarli però quando passiamo sullo sculpting dobbiamo buttare il decimate perché lo applichiamo dopo a sculpting completato quindi abbiamo qui lo stack quello che possiamo fare ora è applicare tutti quanti modificatori premiamo controlla selezioniamo visual geometry to mesh prossimo passaggio entrare in sculpt mode da qui e fare quei piccoli quelle piccole modifiche di questo stavo discutendo prima ad esempio possiamo selezionare il brush grab ovviamente non è che possiamo spostare diciamo questo supporto troppo altrimenti non corrisponderebbe più con il low poly che abbiamo prima salvato quindi le modifiche devono essere davvero minime o a meno che poi non intendiamo fare le modifiche anche allo poly possiamo fare forse questo tipo di aggiustamento prima però va bene anche procedere in questo modo con lievi vedete lievissime deformazioni diciamo giusto per non far sembrare la cosa perfetta ripeto questo proprio un po il trucchetto che può aumentare il realismo sui nostri game props sui nostri oggetti o qualsiasi cosa stiamo modellando veramente a meno che non so cosa proprio super precisa di industriale non solo però insomma anche per quanto riguarda i caratteri personaggi nel volto per esempio non c'è sempre una simmetria perfetta c'è sempre qualcosa di asimmetrico quindi qui possiamo fare queste lievi deformazioni per esempio questo ho proprio davvero minime minime giusto per togliere quell'idea di super perfezionismo che ovviamente il software ricrea e ripeto prendo sempre attenzione a non esagerare perché sono poi in fase di baking non ci troviamo più con con la corrispondenza sull'opole ad esempio non è che possiamo fare una cosa così perché poi difficilmente forse qui ancora ce la fa però insomma meglio meglio evitare se dobbiamo fare delle deformazioni importanti le dobbiamo pensare già in fase di progettazione dell'opoli ok questo poi ad esempio possiamo scegliere il clay e fare delle piccole e possiamo ricreare dei piccoli dettagli in questo modo forse piccole ammaccature così questo poi è una cosa che teoricamente possiamo fare anche in fase di texturing con substance painter però insomma possiamo sentirci liberi di farlo qui o in substance painter ovviamente tutti questi dettagli queste piccole ammaccature che stiamo ricreando adesso poi verranno riportate sulla normal map applicate all'opoli e anche qui come vi dicevo possiamo ad esempio accentuare un po la saldatura qui davvero è giusto per esempio perché è un pezzo che non si vedrà insomma però possiamo fare questo sicuramente per accentuare questo tipo di piccole cose piccoli dettagli che aiutano però a raggiungere quel realismo di cui stiamo cercando ok quindi possiamo ritornare in scusate ritornare qui in object mode isoliamo di nuovo con slash questo componente bene adesso possiamo aggiungere quattro viti qui per farlo possiamo abilitare il laddon chiamato bolt il passaggio per abilitare questo addon edit preferences qui in addons possiamo scegliere possiamo andare a cercare bolt e ecco bolt factory questo addon molto molto utile semplice da usare per aggiungere viti bulloni e quant'altro quindi e aggiungere con shift a una volta abilitato l'addon lo troviamo qui mesh bolt ok aggiungere una una vite praticamente possiamo vedere quella che preferiamo una volta aggiunta andiamo qui per impostare ad esempio il modello diciamo che un modello nut e il tipo e la testa possiamo impostare il pan pan ok comunque quella che che preferiamo poi possiamo scalarlo troviamo su x di 180 per ottenere se avete nel modo corretto ok e rilasciamo un po di spazio qui passo destro shade smooth shift d y ok anche qui diciamo adesso abbiamo spostato la vite sull'asse y però spostiamolo un po anche su x ecco sempre per creare ricreare col senso di asimmetria di imprecisione shift più dx stessa cosa qui spostiamo un poco poco su y shift d y e quindi la spostiamo sull'asse y spostiamo un po su x e un po su y così perfetto ok di queste viti qui ovviamente le creiamo solo sulla versione high poly adesso le spostiamo nella collection appropiata e dicevo quindi queste viti le aggiungiamo ovviamente solo sulla versione high poly perché poi verranno ricreate sulla normal map con il baking sull'opoli anche qui teoricamente per essere davvero precisi dovremmo vedere quant'è il diametro più o meno delle viti però in questo caso può andare bene anche così ora quello che possiamo fare è selezionare queste quattro viti qui selezionare come ultimo quindi come oggetto attivo e lo vediamo nel contorno giallo il supporto e premere control join per unire le vidi al supporto ecco qui che abbiamo il nostro supporto ai con le viti benissimo ora passiamo alla modellazione del mailbox della nostra cassetta delle lettere una buona idea anche per provare a raggiungere un realismo e guardare all'oggetto e capire come è stato fabbricato cioè da quali pezzi è composto ad esempio guardando questa immagine di riferimento possiamo sicuramente capire che lo sportello qui è un pezzo separato che questo gancio è un pezzo separato che il segnalino è un pezzo separato che a sua volta a quest'altro componente che ne fa parte potremmo provare a immaginare se abbiamo come riferimento queste immagini o altrimenti possiamo essere certi cercando proprio immagini di come vengono composti gli oggetti in particolare questa cassetta degli delle lettere e che forse questo è un pezzo che viene piegato e poi agganciato sotto a una base quindi facendo un po' queste considerazioni sicuramente possiamo raggiungere un maggior realismo e anche ci aiuta poi se decidiamo di voler per esempio rigare il componente o animarlo perché abbiamo lo sportello separato il segnalino separato eccetera quindi ripeto fatte queste considerazioni la prima cosa che possiamo fare è selezionare il pezzo entrare in edit mode e con la selezione faccia attiva selezionare questa faccia qui e buttarla e selezionare anche questa faccia qui e buttarla con x delete ok adesso possiamo la prossima cosa che possiamo fare è creare questo sportello qui per farlo sempre in edit mode premiamo contro più r per aggiungere un loop cat qui che chiamo con il tasto sinistro per confermare una volta e poi spostiamo il loop cat più o meno qui a questa distanza che effettivamente sarà lo spessore di questo sportello questo spessore che vediamo qui perché adesso staccheremo queste facce da qui e da lì poi creeremo lo sportello praticamente quindi possiamo già adesso meglio spostiamo già adesso questo edge loop per creare lo spessore corretto diciamo più o meno qui e quando si tratta di spessori anche poi quando applicheremo il solidify a questi a queste parti qui e anche a qui per il game prop conviene esagerare leggermente gli spessori non farli precisamente come quelli che vediamo in foto perché questo diminuirà il realismo se abbiamo questa questa componente che ha vedete questa parte davvero molto molto sottile dobbiamo cercare sì di avvicinarci quanto possibile ma su parti molto molto sottili e meglio esagerare un pochino un pochino lo spessore ok quindi messo qui il nostro edge loop possiamo passare nella modalità selezione facce selezioniamo queste facce qui premendo shift in questo modo oppure possiamo fare una selezione più rapida selezionando questa prima faccia qui poi con control vedete possiamo selezionare in questo modo per essere più rapidi quindi selezionate queste dobbiamo staccarle e possiamo farlo premendo prima shift di per fare una copia confermiamo con il tasto destro del mouse subito dopo premiamo p per separare la selezione in questo modo vedete abbiamo creato questo pezzo praticamente separato applicamo shade smooth ok adesso questo possiamo spostarlo anche momentaneamente qui questo modo e possiamo già andare in edit mode di nuovo e chiudere questo questo pezzo qui selezioniamo questi vertici premiamo f per creare una faccia selezioniamo questi altri f anche questi altri qui f e qui possiamo aggiungere con il tasto f ok ora chiama uscita auto smooth questo è stato la scena uno smut ok adesso spostiamoci in vista frontale entriamo in edit mode e andiamo a creare queste queste alette qui dove poi è agganciato agganciata la vite che permette la chiusura dello sportello quindi anche qui facciamo un riferimento più o meno occhio di quello che di quanto è lo spessore scusate la larghezza di questa aletta qui questa altezza potrebbe essere sufficiente quindi facciamo una cosa isoliamo un attimo lo sportello visto che stiamo lavorando su questo entriamo di nuovo in edit mode selezioniamo questo spigolo premiamo e per estrudere qui adesso entriamo in modalità selezione dei vertici selezioniamo questi due vertici qui e premiamo control più shift più b per applicare il b vel qui in questo modo che lo applichiamo anche qui contro più shift più b e possiamo sicuramente buttare selezionando questi vertici buttare questi dissolverli con control più x è lo stesso di premere x dissolve vertici è praticamente uno shortcut control più x dissolviamo anche questi benissimo ora dobbiamo applicare il mirror prima di tutto applichiamo la rotazione scala anche se già avevamo fatto in precedenza in ogni modo applichiamola nuovamente contro la rotation e scale per impostare rotazione e scala prima di applicare il mirror e poi cosa importante dobbiamo dire che l'origine di questo pezzo si trovi perfettamente centrale per fare in modo di applicare il mirror in maniera corretta e possiamo notare che l'origine del dello sportello che rappresentato da questo puntino giallo si trova al centro vedete si trova al centro possiamo rendere più evidente questa cosa selezionando ad esempio in edit modo questi due vertici spostare con shift s il cursore qui quindi rientrare in object mode e spostare l'origine al cursore in questo modo vedete più evidente che l'origine si trova perfettamente al centro al centro della mesh perché ovviamente ho selezionato questi due questi due vertici che si trovano al centro e ora possiamo applicare il mirror vedete applichiamo il mirror modificatore mirror su y in questo modo qui e la modifica verrà riportata dall'altra parte esattamente allo stesso modo perché è importante impostare il l'origine al centro perché vedete se ad esempio impostavamo qui l'origine lui faceva diciamo riportava la modifica partendo da questo punto come punto mediano quindi proviamo contro z per tornare indietro possiamo a questo punto anche applicare il mirror entriamo in edit mode selezioniamo con il tasto a tutti i vertici tasto destro assicuriamoci quindi con merge vertices by distance che non ci sia niente di sovrapposto ok ora isoliamo questo sportello con il tasto slash sul tastierino numerico e diamogli uno spessore con il modificatore solidify spostiamoci nella scheda dei modificatori e aggiungiamo solidify quindi impostiamo il thickness a un valore negativo così da inspessire esternamente quando selezioniamo il thickness con il mouse quindi spostando praticamente il cursore a destra o il mouse scusate a destra o a sinistra e possiamo essere più precisi tenendo premuto il tasto shift in modo da andare più lenti diciamo così ecco quindi impostiamo uno spessore adeguato attiviamo event thickness e qui nella scheda normals attiviamo anche high quality normals selezioniamo questo sportello qui con il tasto shift più tasto destro del mouse impostiamo il 3d cursor qui in questo modo e quindi inseriamo un cilindro shift più a mesh cilindro ok possiamo impostare il numero dei vertici anche a forse 24 addirittura 16 e quindi lo ruotiamo su x con rx 90 in questo modo qui lo lo scaliamo con il tasto s lo posizioniamo più o meno qui lo scaliamo su y in questo modo ctrl a apply rotation e scale entriamo in edit mode in modalità selezione age selezioniamo tutto questo edge qui che sarebbe la faccia questo angle qui e premiamo ctrl più b per applicare il beaver in questo modo forse forse anche un segmento va bene ok quindi tasto destro shade auto smooth e adesso facciamo il mirror di questa vite dall'altra parte shift più c per riportare il cursore al centro e quindi con la vite selezionata tasto destro set origin origin to 3d cursor e adesso possiamo applicare il mirror su questa vite aggiungiamo il modificatore mirror quindi axis y y y impostato in questo modo e ok possiamo anche applicarlo ora vorrei far notare questa sfaccettatura che stiamo vedendo sia qui sul bordo e anche qui sullo sportello generata dal numero di segmenti che ho scelto inizialmente quando applicato il bivel quindi dobbiamo considerare che se il proprio il nostro game prop è inquadrato una certa distanza questo non sarà un problema ad esempio anche se sarà sempre inquadrato qui non non è un problema ma se la telecamera lo inquadrerà più da vicino o questo tipo di sfaccettatura qui non va bene quindi di partenza dovevamo sapere questa cosa qui dobbiamo in teoria già saperla e di conseguenza scegliere quanto deve quanti segmenti deve avere per appunto evitare questo tipo di sfaccettatura possiamo però correggere questa cosa anche in questa fase attivando l'add-on edge flow questo don qui che sarà possibile scaricare e installare facilmente da github vi lascio un link nella descrizione quello che possiamo fare con questo add-on è intanto aggiungere un loop cut qui con ctrl r e subito dopo premere il tasto destro e dire set flow vedete che i vertici si sposteranno per seguire il flusso di della mesh praticamente possiamo fare la stessa cosa qui con ctrl r inseriamo un edge loop qui tasso destro set flow quindi possiamo fare la stessa cosa anche per la cassetta benissimo ora passiamo a creare questa rientranza che vediamo qui praticamente questa sulla parte frontale dello sportello selezioniamo l'oggetto entriamo in edit mode e selezioniamo tutte queste facce premendo shift tasto sinistro del mouse oppure possiamo anche premere c per il circle selection e fare questo tipo di selezione più rapida fatto questo possiamo premere i per fare un inset in questo modo qui quindi adesso spostiamoci con il tasto ctrl più 3 questa vista frontale entriamo in edit mode modalità selezioniamo questo vertice e premiamo il tasto k per attivare il knife clicchiamo su questo vertice con il tasto sinistro e premiamo il tasto a vedete per spostarci solo in verticale in questo modo agganciamolo qui e premiamo invio o tasto sinistro per confermare facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte selezioniamo questo vertice k clicchiamo tasto a e agganciamolo qui dopodiché selezioniamo questi tre vertici qui e con doppio g quindi g una volta g due volte spostiamo giù fino a toccare i vertici confermiamo con il tasto sinistro del mouse selezioniamo tutti quanti i vertici della nostra mesh tasto destro merge vertices by distance ora creiamo un nuovo inset sempre selezionando queste facce queste interne però quindi nuovo inset di nuovo lo stesso procedimento su questi vertici selezioniamo due volte g spostiamo giù selezioniamo con a tutti quanti i vertici tasto destro merge vertices by distance benissimo ora possiamo selezionare queste facce interne possiamo anche selezionare questo vertice questo e fare un merge quindi tasto destro merge vertices in questo caso at last ok quindi selezioniamo queste facce e spingevole un po sull'asse x in questo caso gx leggermente ora possiamo fare una copia di questo pezzo per il nostro low poly quindi shift più d m low poly e abbiamo salvato il nostro low poly e ora quindi possiamo lavorare sull high poly questa volta utilizzeremo un workflow differente che è quello con il bevel e il subdivision surface quindi la prima cosa da fare è entrare in edit mode e selezionare gli spigoli netti quindi clicchiamo su qui sul menu select nel leather e select sharp edge e quello che dobbiamo fare adesso è premere n per aprire la toolbar di destra e impostare min bevel weight a 1 benissimo dobbiamo considerare di selezionare di selezionare gli spigoli a cui verrà applicato il bevel quindi dobbiamo pensare a cosa selezionare in base a quali spigoli selezionare in base a questo cosa avrà il bevel chiediamoci facciamo questa domanda per capire effettivamente quello che dobbiamo selezionare quindi possiamo sicuramente impostare min bevel weight a 0 di questo e di questo perché ovviamente questa sarà una superficie liscia e non con il bevel ok fatto questo possiamo applicare quindi prima il bevel impostiamo i segmenti a 3 e come limit method weight e prima di impostare subdivision surface cerchiamo di limitare gli angon su questa mesh quindi possiamo entrare in edit mode e con l'add-on mesh machine possiamo facilmente visualizzare gli angon premendo a e il tasto 3 qui apparirà la finestra di cleanup questa funzione di dell'add-on machine e qui in basso possiamo selezionare angon e lui evidenzierà gli angon quindi quello che possiamo fare adesso è limitare questi angon in modo da far funzionare in maniera più accurata il subdivision surface quindi inseriamo qui in un loop cut con control più r tra modalità selezione vertici selezioniamo questo vertice questo vertice uniamolo con join tasto j stessa cosa facciamo un'altra parte selezioniamo questo vertice questo vertice qua join teoricamente possiamo fare la stessa cosa qui selezioniamo tutta la mesh 3 di nuovo per visualizzare gli angon questo and qui possiamo risolverlo così quando convergono più di quattro spiccoli questo qui viene chiamato pole e su superfici piatte solitamente non creano problemi con il subdivision surface mentre su superfici curve potrebbero creare degli artefatti indesiderati quindi è meglio valutare quando è possibile mantenerli oppure no anche questo angon possiamo suddividerlo un po forse anche questo possiamo suddividerlo e con l'add-on mesh machine possiamo applicare anche subito il mirror oltre a tante altre funzioni e caratteristiche che ci permettono di velocizzare il nostro lavoro con blender quindi vi consiglio di scaricare l'add-on mesh machine e di provare le sue fantastiche caratteristiche e funzioni possiamo dicevo applicare subito il mirror premiamo a per selezionare tutta quanta la mesh con uno shortcut alt più x possiamo applicare subito la simmetria in questo modo clicchiamo qui sul gizmo su y e vedete che il mirror viene applicato direttamente sulla geometria anche dall'altra parte abbiamo questo tipo di modifica che abbiamo fatto qui direttamente da quest'altra parte qui quindi di nuovo con il tasto 3 funzione clean up vediamo quali altri angon ci sono qui dovremmo pensare di suddividere un po questo angon qui questo stessa cosa qui e qui ok di nuovo clean up e ora possiamo applicare tranquillamente il subdivision surface quindi nello stack prima il bevel poi subdivision surface l'unico risultato indesiderato ce l'abbiamo qui ma possiamo risolverlo facilmente selezionando questo spigolo qui e applicando bevel weight in questo modo qui possiamo fare la stessa cosa praticamente anche qui quest'altra parte e qui invece con il taglierino possiamo semplicemente aggiungere un edge qui e quindi impostare bevel weight stessa cosa da quest'altra parte vedete l'idea è quella di dividere questo angon che la superficie l'aria è troppo grande vedete ora questo è un quote e mentre questo rimane un angon e qui stessa cosa come l'ho fatto altra parte selezioniamo questo spigolo e impostiamo bevel weight e in questo modo abbiamo il nostro fantastico ai poli per lo sportello quello che possiamo fare è inspessire un po questa parte è diventata davvero molto sottile per farlo semplicemente possiamo selezionare tutte queste facce queste facce qui questa possiamo spegnere un attimo i modificatori selezioniamo praticamente tutta la parte esterna un po di pazienza nel selezionare queste facce ora possiamo premere alt più s in questo modo qui per attivare la funzione shrink fatten in questo caso fatten e attiviamo offset even benissimo ora la prossima cosa che andiamo a fare è creare lo spessore della cassetta delle lettere e questa forma qui che si trova nella parte posteriore clicchiamo prima lo spessore con il modificatore solidify aggiungiamo da qui dopo aver selezionato in object mode la cassetta aggiungiamo il modificatore solidify quindi impostiamo uno spessore adeguato qui nella scheda la funzione thickness questo modo qui questo spessore dovrebbe andar bene impostiamo anche la funzione event thickness e quality normals benissimo dopo aver fatto questo possiamo creare questa forma questa forma che vediamo sulla parte posteriore della cassetta applichiamo il modificatore solidify una volta soddisfatti dello spessore se vediamo che lo spessore vada bene per noi allora possiamo applicare il modificatore solidify dopodiché entriamo in edit mode selezioniamo questa faccia estrudiamola leggermente con il tasto e e subito dopo aver scalato possiamo confermare con il tasto sinistro del mouse e scalare leggermente in questo modo qui ora possiamo portare questo questo spigolo sopra e agganciarlo a questa altezza dove si trovano praticamente questo questi due vertici qui quindi per farlo selezioniamo lo e lo spostiamo su facciamo lo snapping con control a questo vertice qui assicuriamoci sempre che qui nelle opzioni di snapping sia selezionato snap to vertex benissimo ora quello che voglio fare è spostare un po questa parte allungare un po questa parte sotto quindi entriamo in edit mode premiamo shift z per entrare nella modalità wireframe e con il tasto b box select selezioniamo questi vertici e spostiamo un pochino un poco più giù così ok shift z per entrare in modalità solid view va bene poi qui metteremo praticamente la base ora possiamo sicuramente considerare questo pezzo questo questo pezzo qui come anche lo poli quindi possiamo fare una copia con shift d poi m per spostarlo nella collection lo poli perché decido di fare questo in a questo punto in questo momento perché sul light poli adesso andremo a fare questi buchi che sul sulla versione low poli non saranno presenti sulla geometria non ci saranno ma saranno riprodotti invece attraverso la normal map e l'ambiente occluso ora prepariamo la nostra geometria per fare questi buchi con le booleane quindi entriamo in edit mode suddividiamola in questo modo qui ok possiamo farlo momentaneamente solo da un lato poi con il mirror riportiamo la modifica dall'altra parte perché facciamo questo tipo di suddivisione perché quando inseriremo il cilindro per fare il buco verrà contenuto qui e sarà più semplice poi andare a sistemare a sistemare la topologia ok quindi inseriamo il nostro cutter cilindro con shift a mesh cilindro e possiamo qui abbassare il numero di vertice anche a 8 proviamo su x con rx di 90 scaliamo che possiamo posizionare quindi questo cilindro all'interno di questo di questa faccia praticamente di questa di questa faccia qui ok lo spostiamo scaliamo su y tasto destro shade smooth applichiamo lo smooth e adesso lo duplichiamo per fare gli altri buchi quindi shift d x per muoverci sull'asse x dopo aver duplicato più o meno li posizioniamo dove dove vediamo i buchi nella reference poi andiamo ad aggiungere anche le viti quindi il terzo un po più distante shift d poi di nuovo x ora selezioniamo questi tre shift d duplichiamo x subito dopo per spostare sull'asse x e adesso possiamo spostarli un po qui questa distanza possiamo distanziarli un po in questo modo qui però assicuriamoci poi entrando in vista wireframe di di centrarli sempre qui in questo quadrato in questo quadratino qui che è la faccia praticamente della della cassetta delle lettere quindi la stessa cosa qui assicuriamoci che siano praticamente centrati in questo modo benissimo adesso possiamo applicare il modificatore booleano di differenza una cosa che possiamo fare sicuramente è attivare il laddon bull tool che ci permette di fare questa operazione in maniera molto più rapida perché quello che farà inserire un modificatore già preimpostato con quello che ci occorre a questo punto per bucare prima di tutto selezioniamo però tutti i cilindri li uniamo con control join e dopo di che attiviamo qui il laddon se non avete già fatto in preferenza don assicuriamoci sempre di avere attive le schede official e community qui cerchiamo bull tool e lo attiviamo in questo modo possiamo selezionare il selezionare il cutter dopodiché selezionare il pezzo che riceverà il buco in questo caso la cassetta ovviamente e premere control meno e vedete in questo modo viene già impostato e configurato un modificatore per fare un modificatore booleano per fare la differenza benissimo possiamo anche applicarlo se siamo contenti del risultato dopodiché questo che rimane qui è il cutter che l'addon ha cambiato in modalità in visualizzazione bonding box e possiamo tranquillamente nasconderlo con h oppure spostarlo in una collection poi va bene andremo a ordinare un po' meglio le cose però adesso quello che è possibile fare selezionare la cassetta delle lettere entrare in edit mode e andare a sistemare un po questa questa geometria che questo che possiamo correggere diversamente ok vedete che con il buco contenuto in questa faccia sarà più semplice andare a sistemare ragione perché possiamo selezionare questi due venirli con j questi due qui i due vertici venirli con j stessa cosa qui john john ok adesso un po di pazienza nel farlo anche da quest'altra parte qui se non applicavamo il modificatore soliti fai adesso bastava farlo ovviamente da una una parte sulla squadra se non applicato perché l'ho applicato io non vuoi quindi ok adesso questo pezzo qui purtroppo non mi sono reso conto di averlo spostato qui in maniera accidentale però possiamo fare una cosa del tipo abbiamo questi due qui questo qui ci dovrebbe scusate questo e questo lo spostiamo qui ok non sarà super ordinato però non fa niente vedremo cosa succede quando applichiamo il modificatore subdivision surface questo possiamo spostarlo un po di qua e un po di qua ok qui invece sarà molto più semplice questi due questi due la stessa cosa anche da quest'altra parte selezionando questi due vertici premo uno perché con la don machine fa il merge in questo modo è attivata questa funzione che fa il merge in questo modo qui se non avete attivo machine potete tranquillamente selezionare primo primo costo vertice poi l'altro premere m e dire in questo caso at last perché vogliamo che appunto si faccia il merge faccia il merge all'ultimo quindi in questo modo qua però consiglio di scaricare machine quantomeno anche quella la versione gratuita ha diverse funzioni molto utili per fare alcune operazioni ecco tipo questa di merge e altre se non sbaglio questa si trova nella versione nella versione fine possiamo selezionare questi due join ok quindi poi da qui ci spostiamo a quest'ultimo ok ora dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per lo sportello e cioè andare a segnare gli spigoli netti dove applicare il beaver quindi entriamo in edit mode qui selezione degli spigoli andiamo al menu select select sharp edge qui vedete che sta selezionando anche questi vertici all'interno del cerchio del buco praticamente che non vogliamo venga effettuata la selezione quindi ci basterà cambiare l'angolo qui sharpness di selezione in questo modo appena vengono deselezionati assicuriamoci che tutti vengono deselezionati questo in questo caso qui possiamo impostare l'appolo quindi in questo modo abbiamo una selezione è più precisa degli spigoli dove vogliamo che il beaver venga applicato potrebbe essere che sicuramente lo stesso angolo viene viene trovato qui quindi di selezione anche questi un po di attenzione poi controllare gli spigoli gli spigoli giusti da selezionare quindi fatto questo possiamo aprire la toolbar di destra con n andiamo qui nella scheda item e impostiamo min bivet weight come al solito in questo n di nuovo quindi adesso possiamo trasferire la modifica anche dall'altra parte sulla sulla topologia dall'altra parte e possiamo farlo applicando sicuramente un modificatore mirror in questo modo qui y y y attiviamo il clipping e applichiamolo in questo modo qua dopodiché selezioniamo tutta quanta la geometria tasto destro merge by distance per assicurarsi che ci assicuriamo che non ci sono vertici sovrapposti o quant'altro quindi adesso abbiamo i buchi nella cassetta delle lettere e possiamo applicare prima il bevel questo modo qui assicuriamoci di impostare il limit method a weight i segmenti 3 e possiamo scegliere lo spessore del del bevel in questo modo qui questo è attivo il clamp ecco qua il clamp attivo in questo modo la cosa ovviamente anche interessante di applicare il bevel in questo modo con il limit method a weight e che possiamo scegliere in modo non distruttivo quanto bevel i vari spigoli devono avere ad esempio se qui voglio un bevel maggiore mi basterà impostare qui in amount quanto bevel voglio avere su questo quanto smooth voglio avere su questi spigoli e mentre ovviamente potrei avere potrei voler scegliere di selezionare un bevel differente minore per questi posso andare a selezionarli e nel pannello nella scheda mill bevel away abbassare vedete questo valore in questo modo qui se qui ci sta dando qualche problema ok basterà vedete questo angle è molto grande basterà praticamente suddividerlo un po in questo modo l'idea è sempre quella che i vertici e gli spigoli devono seguire un certo flusso abbastanza naturale diciamo e anche questo caso potrebbe essere perpendicolare a questo questo spigolo qui ad esempio più senso se questo spigolo segua vedete questa direzione qui non questa non questa qui questa perché perpendicolare a questo questo spigolo quindi a questo flusso più più naturale praticamente un po l'idea è quella vabbè qui mi sono incasinato perché appunto non abbiamo centrato precisamente nella faccia ma non fa niente perché non genera grossi problemi di ombreggiatura o artefatti ok possiamo spostare anche questo un po qui mod con l'addome machine possiamo applicare la simmetria in maniera più rapida con alt x come abbiamo visto anche prima per portare le modifiche anche da da quest'altra parte qui ok altra cosa da fare adesso molto semplice creare la base quindi entriamo in object mode mesh cubo abbiamo inserito un semplicissimo cubo qui che farà da da supporto da supporto alla cassetta praticamente sarà proprio la base vero e proprio possiamo isolare questi due pezzi così lavoriamo in maniera un po più chiara ok possiamo selezionare questo cubo e dobbiamo semplicemente creare un supporto qui abbassiamo all'altezza dei dei buchi perché effettivamente poi è questo supporto viene agganciato qui vedete con con queste viti se possiamo scalarlo ancora un po questo modo qua ok qui semplicemente invece possiamo applicare anche solo il bivel veramente non c'è proprio alcun bisogno di di subdivision surface ovviamente quindi applichiamo il b il primo però di appellare il bivel applichiamo rotazione scala controlla rotazione scala e poi e poi il bivel questo modo qui applichiamo lo smooth è importante applicare il bivel su davvero ogni spigolo anche quelli più che sembrano più più netti più sottili non so vabbè a parte proprio stare modellando una spada una lama e allora ok però diciamo il realismo è dato anche da questo nella computer grafica 3d in fase di rendering e di rendering in real time nel nostro caso per i videogiochi e il realismo degli oggetti è dato anche da questa luce che vedete riflette sul sui bordi sul bivel e ogni oggetto se fate caso intorno a noi ha il bivel e anche se avvicinate quelli più più netti con gli spigoli più netti si avvicinate un po con una lente o qualcosa del tipo potete notare comunque questo questa leggera smussatura che crea questo effetto di luce che appunto poi dà il realismo agli oggetti ok quindi per quanto riguarda light poly siamo a buon punto praticamente quello che ci manca è solo questo questi due agganci qui il segnalino il segnalino che serve al postino per dire se c'è posta da ritirare oppure oppure no e poi le vidi aggiungeremo semplicemente le vidi con addon bolt e niente possiamo considerare light poly concluso quindi ci manca davvero poco e qui invece per quanto riguarda questo pezzo qui possiamo anche già fare delle piccole piccole trasformazioni possiamo fare delle piccole modifiche ad esempio potremmo attivando il proporzionale editing qui possiamo spostare questi vertici scala una rotellina per diminuire il diametro del raggio del del proporzionale editing potremmo spostare vedete questi questi vertici in questo modo qui appunto per creare un senso un po di ammaccatura o cose di questo tipo poi teoricamente volendo se vogliamo anche con lo scutting possiamo fare delle cose più più precise magari queste lievi deformazioni imprecisioni possiamo farle anche ora in questo modo qua adesso sto un po troppo in questo modo qua ok si potrebbe andare bene posso esportarlo può rimanere anche in questo modo qua leggermente proprio ok vedete abbiamo questo tipo di deformazioni qua poi in fase di texture in questo substance painter applicheremo proprio una ammaccatura fatta molto bene vi farò vedere come è possibile ricrearla praticamente sulla norma ma poi comunque sentiamoci anche liberi di fare come come meglio crediamo insomma se sul like poli il fatto è che sul like poli possiamo davvero divertirci perché non dobbiamo considerare il numero di poligoni quindi anche con lo scutting possiamo aggiungere dettagli o altre cose oppure fare questi aggiungere questi dettagli sulla norma ma poi con il texture quindi ora fatto questo possiamo andare a modellare questa parte qui questo questo cancio davvero molto semplice mi basterà inserire un piano shift a mesh piano portiamo qui in questo modo qui ok eseguiamo un po' diciamo la reference senza senza essere super precisi basta anche solo un po' l'idea di questo di questo cancio qui dobbiamo essere precisi al 100% quando si tratta di ad esempio un oggetto così un game prop di questo tipo qua anzi tante volte è anche una buona idea molto spesso se stiamo soprattutto modellando un oggetto che non so ha il design registrato un marchio registrato eccetera e per evitare problematiche legate alla proprietà intellettuale andare anche a mixare diversi diversi componenti cioè quindi posso scegliere questo pezzo qui invece di questo per fare una cosa un po' diversa originale vabbè probabilmente non è il caso della cassetta delle lettere ma dobbiamo fare fare attenzione attenzione a questo quando poi soprattutto pensiamo magari di di usare questo modello 3d per scopi commerciali eccetera non è comunque mai una banalità questa qui la proprietà intellettuale va sempre rispettato ok quindi dobbiamo seguire un po il profilo di questo oggetto qui che studiamo è un po' sopra questo studiamo di nuovo abbiamo x per muoverci sull'asse x possiamo premere e su z in questo modo questo questa smussatura qui ci agganciamo a questo e di nuovo poi è su z in questo modo ok quindi adesso clicchiamo rotazione scale entriamo in edit mode selezioniamo questi due anzi teoricamente anche questi premiamo ctrl b per un bvel in questo modo stessa cosa possiamo fare per questo ctrl b ok ora possiamo applicare il soli di file quindi qui soli di file questo modo qui event thickness quali di norma e possiamo abbassare un po questo qui chiamo shade auto smooth per aiutarci a comprendere meglio le proporzioni e visualizzare anche meglio la silhouette del nostro oggetto 3d possiamo andare qui in shading e attivare la visualizzazione flat che vedete che abbiamo una migliore comprensione della silhouette dell'oggetto questo ci aiuta anche a capire ad esempio a una certa distanza se l'oggetto mantiene ancora visibile dettaglio oppure no e quindi di conseguenza se scalarli cambiare di dimensioni eccetera come ad esempio potete notare forse il gancio appena creato è un po troppo sottile e a una certa distanza perde perde col dettaglio diventa davvero poco visibile e forse sarebbe questo il caso di mantenerlo un poco più visibile quindi possiamo fare scalarlo leggermente entriamo lo selezioniamo in object mode entriamo in edit mode selezioniamo tutto con a anzi scusate qui non abbiamo applicato il soli di fare quindi possiamo possiamo ancora agire sul sul thickness sullo spessore dal modificatore soli di file quindi rettriamo il flat vedete che adesso questa distanza qui e il dettaglio questo dettaglio questo legaccio ancora abbastanza visibile quindi può andare bene così ok quindi ritorniamo su visualizzazione della del viewport shading su studio e ora qui stessa cosa entriamo in edit mode e andiamo a segnare gli spigoli netti a cui verrà applicato il bevel con bevel weight quindi tramite mod selezione degli spigoli select sharp edges selezioniamo quelli che non ci servono perché qui applicheremo il bevel soliamo il pezzo così avremo più comodi e poi selezioniamo quindi questi questi anche ok quindi nella trasforma qui nella toolbar di testa mill bevel weight a 1 entriamo in object mode applichiamo il bevel e tre segmenti anche qui ricordiamoci sempre di applicare la rotazione della scala mi ricordo se l'avevo fatto prima comunque limit method su weight tre segmenti e abbassiamo un po' lo smosso qui evidentemente c'è il tempo attivo infatti eccolo tempo overlap lo disabilitiamo e adesso possiamo decidere quanto bevel quanto smosso quindi mettere su questi su questi porti 0.0005 può andar bene ok e quindi dopo il bevel applichiamo anche il subdivision surface a due livelli di suddivisione qui possiamo sistemare facilmente selezionando questi due edge qui e anche questi altri due qui e diremmi il bevel weight impostiamo lo impostiamo ok adesso dobbiamo il gancio appena creato per mettere quello qui sulla sulla porta praticamente quindi selezioniamolo shift d lo spostiamo momentaneamente qui e lo ruotiamo lo ruotiamo su x rx 180 per praticamente capovolgerlo perché questo sta capovolto e al contrario rispetto a questo quindi spostiamo questo qui possiamo entrare in edit mode nella vista wireframe andiamo a selezionare con b tutti questi vertici qui e li buttiamo premendo x faces però selezioniamo faces poi selezioniamo questi due qui sempre in vista wireframe per selezionare ovviamente anche quelli dall'altra parte altrimenti in vista solid non riusciamo a selezionare gli altri vedete ok quindi in wireframe possiamo selezionare questi diciamo sx 0 per raddrizzare questa questa parte qui poi selezioniamo tutto questo e lo spostiamo un po più verso di qui questo lo spostiamo sopra adesso possiamo tanto trovare un attimo questo pezzo poi chiudere qui con alt possiamo fare la selezione dell'intero loop premere f dopodiché entrare in edit mode contro le r inseriamo un edge loop qui sx 0 sempre per raddrizzare questo questo bordo qui e poi possiamo selezionare queste due facce in questo modo e premere ed estuderle dopodiché disabilitiamo un attimo sia il bevel sia il suddivision surface per vedere meglio e selezioniamo questi edge qui anche questi questi anche e applichiamo min bevel weight su questi invece possiamo toglierlo e applichiamo il min bevel weight anche su questi perfetto rientriamo in object mode e attiviamo nuovamente suddivision surface e bevel benissimo possiamo ora avvicinarlo al alla porta possiamo fare anche lo snapping questa volta ci conviene alla faccia che così però lo snapping a questa una di queste facce probabilmente proprio a questa quindi gx control scusate il gaccio però gx control ok lo snapping ci assicura che è appoggiato a questa parte che sta fuoriuscendo da qui possiamo portarlo un po più su 3 nel modere fare un altro piccolo aggiustamento tipo tipo questo ok abbiamo anche i ganci e l'ultima cosa proprio che ci resta da modellare è il il segnalino il segnalino possiamo semplicemente partire da un cubo per fare questo supporto qui dove è agganciato e dove poi ruoterà praticamente dimenticavo però le viti aggiungiamo qualche vite qui e sui ganci quindi con l'addome bolt attivo selezioniamo un mesh quindi bolt selezioniamo la vite che più che più ci piace io scelgo la philips e possiamo a questo punto scalarla in questo modo votiamola su x con rx 90 e la posizioniamo in modo preciso qui possiamo scalarla forse ancora un po e possiamo posizionare qui benissimo ora risoliamola un attimo e qui sicuramente possiamo applicare remesh per darvi un aspetto più realistico quindi aggiungiamo remesh shade smoothing 0.02 proviamo ok quindi adesso possiamo applicare smooth corrective impostiamo smooth smooth type sul length e diciamo un repeat a 30 poi possiamo applicare il subdivision surface ma prima di fare questo dobbiamo in edit modo andare a selezionare select sharp page in questo modo e applicare min crease e quindi poi possiamo applicare il subdivision surface teoricamente sarebbe stato sufficiente anche solo il remesh perché tanto comunque e con il con il corrective smootanto la vita è anche molto piccola era solo per ecco togliere queste queste sfaccettature su queste su queste facce comunque ok vedete adesso sono più lisce più realistiche quindi possiamo portare a 4 subdivision surface e dopo che applichiamo il decimate impostiamo 0.1 e quindi possiamo applicare tutti quanti modificatori ovviamente possiamo fare questo aggiungere le viti in questo modo e ottenere comunque viti da 81 mila triangoli se vogliamo renderle un po più realistiche o comunque applicare un nuovo workflow più leggero con ad esempio bevel e subdivision surface e fare questo quindi aggiungendo questi dettagli modellandoli oppure quando si tratta di esempio viti o altro possiamo aggiungerli poi vedremo nel video dedicato al texturing anche direttamente sulla normal map però per questo tutorial scegliamo questo tipo di approccio quindi possiamo applicare tutti i modificatori per farlo una volta sola in oggetti in obiettivo possiamo selezionare l'oggetto controlla e quindi visual geometry to mesh ok quindi posizioniamo ne posizioniamo una vita e qui possiamo ruotarlo un po con r y in questo modo possiamo posizionarne un'altra qui la dubbiamo con shift d poi la spostiamo su x la ruotiamo in maniera differente sempre su sull'asse y la spostiamo qui a questa ora possiamo duplicarla anche dall'altra parte qui possiamo premere per un mirror rapido ctrl m dopo aver premuto ctrl m premiamo y per flipparlo diciamo così dall'altra parte spostiamo questo qui quotiamolo su y shift d x cosa poi lo spostiamo r y benissimo quindi adesso questo possiamo duplicarlo lo spostiamo qui ci spostiamo in vista top con il 80 su 7 questo lo dobbiamo ruotare su x di 90 e posizionarlo praticamente qui mi sembrano un po grandi queste vidi in effetti forse lo sono possiamo scalarle un po in questo modo ovviamente questo tipo di di scala era meglio farla solo su una però va bene comunque anche così questa come dimensione può andar bene spostiamo un po qui poi possiamo allungare un po questo pezzo qui selezionandolo in edit mode possiamo fare una selezione di questi vertici premendo c circle select e spostiamo un po giù questa parte e quindi selezioniamo questa vide qui shift d la ruotiamo questa volta su y di 90 meno fare questo questa rotazione premiamo ry 90 la spostata in questa direzione per ruotarla nell'opposto basta premere poi subito dopo meno quindi questa la possiamo posizionare qui ok quindi modelliamo il segnalino ho deciso di modellare questo questo qui con l'aggancio qui da cui possiamo partire con un cilindro e segnalino a forma di bandierina quindi partiamo con la modellazione di questa parte qui e qui sicuramente possiamo utilizzare un cilindro poi scalarlo e dargli un po questa forma che vediamo qui quindi shift a mesh cilindro qui possiamo sicuramente abbassare il numero dei vertici lo possiamo abbassare a 16 se ci sarà sufficiente quindi rx 90 per ruotarlo e lo scaliamo in questo modo qui quindi lo sposto sopra e lo scaliamo su y in questo modo qui per dargli più o meno questo questa forma questo spessore scaliamo ancora con anche un buon modo per capire le proporzioni quando abbiamo le immagini raccolte qui e non direttamente sullo sfondo e avvicinarsi all'immagine e avvicinarsi alla stessa alla stessa distanza diciamo così del dell'immagine in questo modo possiamo avere un po più chiara l'idea della della misura che vediamo nell'immagine quindi potrebbe essere un po di aiuto ad esempio avvicinarsi più o meno qui ci aiuterà a capire le dimensioni in maniera più precisa questo vale sia sia per questo componente qua e anche poi per la bandierina che andremo tra un attimo a modellare quindi questo possiamo spostare qui lo agganciamo alla parte della cassetta e dopo di che dobbiamo fare questa questa forma qui sicuramente possiamo fare un inset poi un altro inset estrudere e poi applicare del vivere quindi in questo modo entriamo in edit mode selezione facce selezioniamo questa faccia e creiamo un inset con il tasto i dopo di che possiamo estrudere verso l'interno e scalare leggermente scusate abbiamo qui il proportional editing lo disattiviamo scaliamo leggermente in questo modo qui possiamo anche spostare questo un po sopra poi facciamo di nuovo un inset per fare praticamente questa forma qui estrudiamo esternamente questa volta e adesso qui su questo bordo applichiamo il vivele anche su questo bordo esternamente quindi il problema di fare questo sempre entriamo in object mode ctrl a rotation e scale quindi nuovo in edit mode selezioniamo questa faccia ctrl b per il vivele questa volta possiamo applicare anche direttamente il vivele senza senza la necessità del modificatore certo il vantaggio di applicare il vivele in maniera distruttiva è che abbiamo un controllo più rapido ad esempio sullo spessore dei vari dei vari bordi invece di selezionare il modificatore segnare gli spigoli decidere poi attraverso la funzione di mill bevel weight cosa fare quale spigolo fare più con più bevel o meno quindi diciamo ai suoi vantaggi svantaggi però è sempre una buona idea provare a usare un workflow non distruttivo quindi è una buona idea anche perché quando poi creiamo il pezzo low poly ci basterà eliminare il modificatore e ritorniamo al pezzo ad esempio senza senza il vivello senza subdivision surface ovviamente in questo caso anche possiamo andare a ridurre sul low poly ulteriormente il bevel semplicemente selezionando uno spiccolo sì uno no e dissolvendo quando poi stiamo lavorando sul low poly ma per lo vediamo in nel video dedicato alla modellazione del low poly ad esempio anche nello poly questa parte verrà proprio eliminata rimarrà semplicemente un cilindro molto con poligoni con un basso numero di poligoni ok perfetto quindi adesso però concentriamoci su like poly e su questo pezzo possiamo applicare lo shade smooth in questo modo qui e andiamo ad applicare anche il subdivision surface c'è un shortcut per il subdivision surface che è control più il numero di suddivisioni impostate nel modificatore quindi ad esempio se premio se premio control più 2 lui applicherà direttamente il subdivision surface con levels viewport a 2 mentre se premio 3 applicherà ovviamente il modificatore subdivision surface con levels viewport a 3 ok quindi noi scegliamo il levels viewport a 2 e abbiamo adesso questo pezzo che sicuramente sono un attimo isolato sicuramente possiamo selezionare questa faccia spingerla un po' qui sull'asse sull'asse y e qui per questa faccia qui possiamo fare un insetto un primo insetto un secondo hit set e poi dire m merge che è lo shortcut per il merge add center benissimo e abbiamo il nostro pezzo per il segnalino abbiamo questo supporto che poi praticamente quello che che farà ruotare abbassare la bagnerina quindi possiamo qui inserire con control r un loop cat puoi premere control b e i segmenti di impostiamo praticamente uno un segmento in questo modo qui dopo di che possiamo premere con tutte queste facce selezionate alt e per dire estrudi lungole normali in questo modo qui per fare questo effetto e dopo di che possiamo applicare con control r un edge loop qui un altro edge loop qui uno qui e uno qui in questo modo per per dare un po questo senso di di profondità dove effettivamente poi è inserita la bandierina benissimo quindi adesso andiamo a modellare questa questa bandierina qui possiamo tranquillamente partire da un da un cubo facciamo una versione molto blocking out diciamo così molto semplice e poi da lì aggiungiamo il beaver su questo su questa parte qui e adesso e sugli altri porti praticamente ok quindi possiamo spostare il cursore qui proprio qui quindi shift s possiamo dirgli cursor to selected e da qui inserire con shift a mesh un cubo in questo modo lo scaliamo entriamo in edit mode scaliamo ancora su y in questo modo qui possiamo spostarlo momentaneamente qui di nuovo sy e lo posizioniamo all'interno di questa di questo solco selezioniamo questa faccia e possiamo semplicemente portarla su sull'asse z in questo modo qui e probabilmente qui possiamo anche un po scalare su x in questo modo vedete perché a questa forma penso che abbia questa forma un po un po scalata qui sopra e dopo di che possiamo inserire un con controllare sempre un look cut qui più o meno questa altezza selezionare questa faccia qui estrudere con e in questo modo e scalare leggermente su z in questo modo qui ctrl a rotation e scale entriamo in edit mode qui possiamo applicare il bevel in questo modo intanto esaliamo il pezzo con slash lavoriamo in maniera più comoda possiamo intanto selezionare questi due spiegoli qua in questo modo qui e premere ctrl b con la rotellina aumentiamo il numero di segmenti in questo modo e facciamo questa questa forma assicuriamoci di selezionare sempre gli spiegoli spiegoli netti con select sharp edges selezioniamo sicuramente questi non ci occorrono quindi possiamo min bevel weight a 1 applichiamo il modificatore bevel qui limit method a quindi possiamo quindi selezionare lo spessore possiamo selezionare il bevel aumentiamo il numero di segmenti a 3 ok quindi qui possiamo dire shapes mode in object mode e applicare applicare anche il subdivision surface prima il bevel poi il subdivision surface qui possiamo semplicemente aggiungere un edge loop qui e forse anche qui entriamo in edit mode shift z per la vista wireframe forse possiamo selezionare in questo modo questi vertici e scalarli un poco su x in questo modo con sx per rispessire un po la base questa parte qui sotto si conclude questo tutorial sulla modellazione poli della nostra cassetta delle lettere spero vi sia stato di grande utilità e che ora abbiate un'idea più chiara su come approcciare un progetto di moderazione 3d di questo tipo sono felice di annunciare che questo è solo l'inizio di una serie di tutorial che tratteranno ogni aspetto della creazione di questo asset nel prossimo video ci concentreremo sulla creazione del modello low poly della cassetta delle lettere un passaggio cruciale per prepararci al processo di unwrapping baking e texturing quindi seguiranno tutorial proprio sull'unwrapping sul baking sul texturing e sul rigging che vi forniranno tutti gli strumenti necessari per portare a termine un progetto di questo genere ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video grazie ragazzi alla prossima